In questo numero, emergenza coronavirus fase 2, le linee guida per le riaperture in sicurezza delle attività economiche dei centri estivi emanate dalla regione. Mascherine gratuite distribuite dall'edicole dal prossimo 5 giugno. Sono circa 1200 giornalai coinvolti. La Toscana che coltiviamo non si è mai fermata. Prosegue l'impegno della regione a sostegno delle aziende agricole e agroalimentari. Trasporto pubblico locale e 21 milioni di euro per acquistare nuovi bus sono stati stanziati dal Ministero per la Toscana. Ed è nata Toscana Lavoro, la nuova piattaforma web lanciata dalla regione per fare incontrare chi cerca e chi offre un lavoro. La regione toscana ha riunito in un'unica ordinanza firmata dal Presidente Enrico Rossi tutte le linee guida per la riapertura delle attività che erano state chiuse per contenere l'epidemia di Covid, compresi circoli sociali, culturali e ricreativi, terme, centri benessere e ricreativi, stagio e attività di formazione che ancora erano fermi e che ora possono ripartire. Le sette pagine di ordinanza e sei allegati recepiscono anche le linee guida definite dalla conferenza delle regioni su ristoranti, negozi al dettaglio, strutture ricettive, acconciatori, estetisti, tatuatori e rispondono inoltre alla richiesta di indicazioni più dettagliate da parte delle attività che avrebbero già potuto riaprire ma non disponevano di linee guida specifiche come campeggi e villaggi turistici, parchi a tema, stabilimenti balneari, piscine e palestre. Ci sono molte precisazioni sulla ricettività all'aria aperta, quindi campeggi, villaggi eccetera che ci erano state richieste perché anche lì ovviamente non fosse altro sulla gestione dei bagni comuni, delle docce comuni eccetera, avevano bisogno di punti di riferimento più solidi. Restano valide in modo indistinto per tutti i settori le regole anti-covid di base, distanza sociale di almeno un metro anche se in Toscana è raccomandato un metro e ottanta, è obbligo di indossare la mascherina sia all'aperto che al chiuso sia nei locali pubblici che privati con un'importante novità che l'ordinanza introduce per gli assistenti ai bagnanti che potranno sottoporsi al test sierologico per il covid-19 a spese della regione. Siccome i bagnini chi fa assistenza, chi porta in qualche modo anche assistenza a chi si trova in difficoltà sono sostanzialmente preparati ai soccorritori di primo livello, inseriamo in questa ordinanza la loro presenza nella lista di chi ha diritto, se lo vuole, poter accedere al test sierologico e quindi lo potrà svolgere anche a costi della regione. La regione ha fissato le linee guida anche per l'utilizzo delle spiagge libere con le prescrizioni per la distanza di sicurezza fra le persone, almeno un metro, ma è raccomandato anche qui un metro e ottanta, fra gli ombrelloni almeno quattro metri e fra lettini almeno un metro e mezzo. Non si potrà giocare a pallone o fare attività di gruppo che generino assembramento, i comuni potranno fissare regole anche per l'accesso alle spiagge. Il 15 giugno infine potranno entrare in funzione i centri estivi per quanto riguarda le regole di sicurezza, per bambini con più di tre anni e per gli adolescenti le linee guida di riferimento rimangono quelle nazionali, definite con il decreto del Presidente del Consiglio del 17 maggio. La regione toscana che già ai primi di maggio aveva destinato 2 milioni di euro ai comuni per la progettazione dei centri estivi ed è stata la prima a farlo con risorse già disponibili, ha definito i dettagli delle procedure per autorizzare i centri estivi e per il loro svolgimento. A partire da venerdì 5 giugno la distribuzione gratuita ai cittadini toscani delle mascherine filtranti anti-covid messe a disposizione dalla regione toscana avverrà tramite le edicole. Basterà presentarsi dal giornalaio con la tessera sanitaria e ritirarne una prima tranche di almeno 10. Le edicole saranno fornite da un'app che consentirà ai titolari tramite smartphone, tablet o pc di leggere la carta sanitaria. Entro la fine di giugno sarà reso disponibile sempre gratis e con le stesse modalità il resto della fornitura che in base alla disponibilità sarà compresa fra 20 e 30 mascherine a persona. L'accordo promosso dalla regione coinvolge circa 1.200 edicolanti toscani ed è stato siglato dalle associazioni e dai sindacati di categoria e dai rappresentanti delle agenzie di distribuzione, partner dell'iniziativa Il Quotidiano La Nazione. L'emergenza coronavirus non è riuscita a paralizzare l'agricoltura in Toscana che grazie alle sue 45.000 imprese agricole e 3.200 imprese agroindustriali ha continuato a fornire ai consumatori prodotti e servizi di qualità, sempre potendo contare sul supporto della regione toscana intervenuta tramite le risorse del programma di sviluppo rurale 2014-2020 che ammontano a oltre 949.420.200 euro. Per questo la regione ha scelto lo slogan La Toscana che coltiviamo non si è mai fermata, per sintetizzare questo impegno nel sostenere il settore agroalimentare toscano che vale più di 3 miliardi e mezzo di euro. Noi ci siamo trovati di fronte a dover sostenere questo settore che proprio per come è organizzato la nostra è un'agricoltura particolare, un'agricoltura di qualità, un'agricoltura nel quale le denominazioni di origine la fanno da padrone, basta pensare noi abbiamo 91 fra denominazioni di origine, fra DOP, GP, SGT, basta pensare anche ai prodotti alimentari tradizionali che sono tantissimi. Nel merito dei provvedimenti adottati, obiettivo della regione è continuare a rendere l'agricoltura uno strumento di produzione e di salvaguardia del territorio, sia attraverso le risorse, sia attraverso gli undici bandi aperti del programma di sviluppo rurale che con le specifiche misure regionali e nazionali, oltre ai pacchetti di interventi come proroghe, deroghe e semplificazioni procedurali, a partire da quelle messe a disposizione dall'Unione europea. Diverse sono state le indicazioni dell'Unione europea che ci hanno facilitato in questo senso, ma soprattutto la regione ha tenuto a continuare a mantenere attivi gli servizi correlati all'erogazione dei finanziamenti per gli agricoltori. In questo senso l'amministrazione pubblica, anche in questo periodo della crisi e del lockdown, ha continuato ad erogare i propri servizi. Il Ministero dei Trasporti ha sbloccato e destinato alla Toscana 21 milioni di euro per l'acquisto di nuovi bus per il trasporto pubblico locale. Il decreto firmato dalla Ministra Paola De Micheli prevede che di questi 21 milioni 9 milioni e 600 mila euro siano immediatamente spendibili, mentre altri 6 milioni saranno erogati entro il 2024 e le risorse rimanenti arriveranno negli anni successivi. Per l'assessore ai trasporti e alle infrastrutture della regione toscana Vincenzo Ceccarelli, l'arrivo delle risorse del Ministero permetterà di dare un'ulteriore spinta al rinnovamento del parco bus della Toscana, ricambiando 2 mila degli attuali bus con nuovi mezzi più ecologici e sicuri. La previsione è di rinnovare totalmente nell'arco di pochi anni il parco bus della Toscana. Trovare un impiego in Toscana diventa più facile con la nuova piattaforma web Toscana Lavoro, attivata dalla regione toscana e costruita in modo da incrociare domanda e offerta di lavoro, mettendo in connessione cittadini, imprese e pubblica amministrazione. La piattaforma è attiva dal 27 maggio nella sezione dedicata ai cittadini e dentro qualche settimana, detto l'assessore regionale alla formazione al lavoro Cristina Grieco, lo sarà anche nelle altre due sezioni dedicate a aziende e agenzie per il lavoro. La piattaforma è unica per tutto il territorio regionale. Tre, le modalità di accesso, ciascuna pensata per offrire una gamma via via più articolata di servizi. La modalità libera, cioè senza autenticazione, per ricercare e prendere visione delle offerte di lavoro. L'autenticazione debole, cioè con utente e password, per candidarsi a un'offerta di lavoro, archiviare il curriculum e prenotare un appuntamento in un centro per l'impiego. E l'autenticazione forte, con speed o CNS, per accedere ai dati contenuti negli archivi regionali, come le schede anagrafiche e il libretto formativo.